MTV EMA 2017 MTV EMA 2017, tutto quello che c'è da sapere Dopo vent'anni, gli MTV European Music Awards tornano a Londra, con una cerimonia di premiazione che avrà luogo all'asse Arena di Wembley. L'appuntamento è per il 12 novembre alle ore 21, a fare gli onori di casa Sararita ora. Sono state rese noto da poco le nomination ufficiali dell'edizione 2017, che vede tra i favoriti sicuramente El Sheeran e Taylor Swift. . A contendersi in Italian Act, invece, ci saranno Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Ermal Meta, Francesco Gabbani e dei giornalisti. . . Vediamo però quali sono le categorie e le nomination tra cui è possibile votare, categoria Best Song, Clan Banditro Cabì e FT. Sen Paul e Anne Marie, di Ilunga Khaled Vittout e FT. . . Rihanna, Brisson Tiller, Ed Sheeran Chapeo Fio, Luis Fonsi e Daddianche e Despacito, Remix, FT. Justine Bieber, Shavn Mendes Teres Nottingham e Bebeck. . . Categoria Best Artist, Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Milei Kirus, Shavn Mendes, Taylor Swift. Categoria Best Look, Dua Lipa, Harry Styles, Rita Ora, Taylor Swift, Daim. . 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 Ragnapostrofo Boneyman. Categoria Best Pop, Camila Cabello, Demi Lovato, Milei Kirus, Chavon Mendes, Taylor Swift. Categoria Best Video, Fofingters Room, Kaoti per Ribon Appetit FT. Migoms, Kendrick Lamarumle, Kailispy FT. Categoria Best Live, Bruno Mars, Coldplay, Ed Sheeran, Eminem, U2. Categoria Best Electronic, Calvin Harris, David Guetta, Major Lazer, Martin Garrix, The Shinesmockers. Categoria Best Rock, Coldplay, Fofingters, Royal Blood, The Killers, U2. Categoria Best Hip Hop, Drake, Eminem, Future, Kendrick Lamar, Post Malone. Categoria Best Alternative, Imagini Dragons, Lana Del Rey, Lorde, T20, 30 Seconds, Two Mars. Categoria Biggest Fans, Ariana Grande, Justine Bieber, Katy Perry, Chavon Mendes, Taylor Swift. Categoria Best Push, Aile Estinfeld, John Bellion, Julia Michels, Kaki Hill, Khalid, Kyle, Noah Kirus, Petit Meller, Ragnapostrofo Boneyman, Sdza, T.E.D.N.T.E. Art. . Live from Barcelona, Spain 2017. Categoria Best Italian Act, Ermal Meta, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, The Journalistic, Tiziano Ferro. . È possibile votare il proprio artista preferito sul sito di MTV. I vincitori degli MTV European Music Awards 2017 saranno annunciati nella serata del 12 novembre, in diretta su MTV, canale Sky 133. . Rita Ora si è detta molto emozionata di condurre l'importante manifestazione, che la vede anche candidata nella categoria Best Look. . . La pop star ha dichiarato, sono emozionata perché presenterò gli Emas nella mia città. Mi ricordo quanto furono divertenti i miei primi Emas a Francoforte nel 2012, quando cantai Rip. Non vedo l'ora di tornare sul palco per presentare e per esibirmi. . . In quell'occasione, Rita si presentò dentro una gigantesca gabbia da uccellino, cosa ci riserverà per questa edizione 2017? D'altronde, si sa che non esiste edizione degli MTV Emas senza scandali o provocazioni. .